Sarà il Consiglio di Presidenza della Regione Lombardia doversi occupare della vicenda Mantovani come noto il Vicepresidente della Giunta Regionale Mario Mantovani in forza al PDL era stato invitato di mettersi dall'altra carica quella di Sindaco di Arconate incompatibile con l'incarico regionale. Mantovani aveva rimesso in effetti il suo mandato di primo cittadino nelle mani del Vice Sindaco ma la maggioranza di centrodestra in Consiglio Comunale gli lo aveva riassegnato tra lo stupore delle opposizioni. Il noto esponente del PDL non fa mistero di non condividere la normativa nazionale che regola i doppi e i triplincanichi, così ora sarà il Consiglio di Presidenza del Pirellone a doversi esprimere su una vicenda che rischia di avere ripercussioni anche a livello nazionale. Intanto le opposizioni di centro-sinistra continuano a chiedere il rispetto delle regole.